Quante volte hai desiderato alzarti al mattino nella leggerezza, nella spensieratezza? Magari chiudendo gli occhi che avevi una testa pesante, di problemi, di preoccupazione, ti sei detto, ah domani voglio la leggerezza, apro gli occhi e voglio la leggerezza. E invece quando apri gli occhi c'è di nuovo la tristezza, la pesantezza, le preoccupazioni. Come fare ad essere nella spensieratezza, nella leggerezza? Ascolta questa chicca di benessere fino in fondo, non chiudere questo video. La ricetta base è essere bambino, entrare nel mondo bambino. Oh non ce la posso fare, ma come faccio? Dirai tu una stupidata. No, ascolta bene. E ti faccio l'esempio della natura, perché la medicina taoista si basa sempre sugli esempi della natura, perché l'uomo ha imparato da lì. Il seme di ogni albero, di ogni pianta, contiene in sé la potenza della pianta. E ti faccio l'esempio del bambino. Se tu guardi un bambino, alcune volte ha degli atteggiamenti che sembra un adulto, ti parla in tal modo che tu rimani così. E ha anche l'atteggiamento di un vecchietto o di una vecchietta. Quindi dentro un bambino ci sono tutte le potenzialità, tutte le manifestazioni, tutti i riflessi, ok? Di adulto e di una persona in età più grande. Ecco, così nel seme. Nel seme di un grano c'è già la potenza della pianta del grano. Nel seme di un albero c'è la potenza dell'albero. Ci vuol solo del tempo per manifestarsi, però c'è già dentro. E l'opposto funziona, perché nell'albero c'è già la potenza del seme che le ha dato vita. Quindi in te adulto c'è la potenza del bambino. Nelle tue cellule c'è il mondo del bambino. E quindi cerca di entrare, fai un gioco con te stesso. Perché come farebbe un bambino in quella situazione? Come riderebbe sopra? Che manifestazioni fisiche avrebbe anche di neutralità, di indifferenza magari, di distacco? Ecco, ricordati sempre. Il mondo del bambino c'è sempre dentro di te. Contattalo questo mondo, permettetelo di contattare, di essere creativo, di essere bizzarro e pazzo alcune volte. Se ti è piaciuto questo video, soprattutto se ti è stato utile, condividilo con i tuoi amici oppure metti mi piace.